Oggi depositiamo la proposta di legge per il reddito di cittadinanza nella regione toscana. Sfidiamo centrodestra e centrosinistra sul campo della miseria e della povertà. Vogliamo togliere dalla povertà 155 mila famiglie. È possibile? Avanti con questa sfida. Grazie a tutti. La proposta di legge per il reddito di cittadinanza a livello regionale è depositata, è cominciato l'iter burocratico. Arriviamo rapidamente ad approvarla.